Con mister Danilo Bianco prima dell'allenamento della giovanile Centallo che ha ripreso ormai da diciamo questo è già il terzo allenamento sostanzialmente in gruppo dopo la preparazione individuale delle scorse settimane. Allora mister si riparte da qui, un nuovo girone, si riparte da zero forse per voi anche meglio così, con quali stimoli? Ma gli stimoli ovviamente ci sono altrimenti avremmo fatto scelte diverse, sappiamo che saranno dieci partite, tutto molto anomalo, molto strano e molto complicato per il protocollo, per il dover ripartire dopo un periodo così lungo, per un campionato così corto, però ci siamo parlati con società e ragazzi, tutti avevano comunque il desiderio di poter provare a ripartire, ovviamente la prensione, un po' di pensieri ci sono, però ripeto la passione, il desiderio di poter così tornare a giocare delle partite vere ha prevalso sul resto, speriamo che vada tutto nel verso giusto. Ecco cercando di lasciarci alle spalle il tema sanitario che poi sappiamo benissimo che sarà un tema centrale da qui in avanti, proviamo a parlare un po' dal punto di vista sportivo e innanzitutto organizzativo, ci sarà un girone ad 11 squadre quindi non è proprio un ripartire dall'inizio ma un ripartire con qualcosa di diverso, tu cos'è ti aspetti e soprattutto che tipo di campionato sarà? Ma anche qui, chi lo sa, perché comunque il mercato adesso sta andando alla grande, nel senso che tutti si muovono, stanno cercando di rinforzare le squadre, cercando di prendere i giocatori delle squadre che non hanno potuto o voluto comunque ripartire, qualcuno va a pescare in promozione, anche noi comunque abbiamo avuto un ragazzo a Riaudo che è uno dei due portieri che ha preferito fare scelte diverse visto il periodo e siamo intervenuti prendendo Renaudo dal costigliore Valvarai. Quindi è tutto un po' da vedere che le squadre come quali saranno, ovviamente ci sono squadre che approfitteranno della situazione un po' anomala per provare a vincere il campionato e anche squadre che non erano partite bene e ora si sono rinforzate parecchio e quindi bisogna vedere. È anche vero che, ripeto, non è facile fare una squadra in due settimane, in tre settimane, non è facile amalgamarla e noi punteremo su un gruppo consolidato che si conosce bene, che ha entusiasmo, non ha niente da perdere perché sappiamo che magari sulla carta non abbiamo i valori di altre squadre, però è bello anche per questo, è bello anche giocare contro squadre attrezzate e capire noi fino a che punto possiamo arrivare e cosa magari per il futuro dobbiamo cambiare per migliorare e per crescere. Ecco, un'ultimissima battuta, visto che mi hai fornito in parte l'assist, è già arrivato Reinaudo, hai già detto che le altre squadre si stanno muovendo tanto, mi hai già anche detto che in pratica manterrete il gruppo, è probabile che si muova ancora qualcosa in entrata e ti chiedo anche se invece qualcuno per ragioni ad esempio di carattere lavorativo personale ha declinato l'invito a tornare in campo. Esatto, non continueranno per questa stagione, per il discorso lavorativo, tamponi e tutto questo, Ariaudo, uno dei due portieri e Viale che ha fatto delle scelte momentaneamente diverse. Per quanto riguarda gli innesti, se stiamo lì vediamo se c'è qualche possibilità di migliorare la nostra rosa, perché no? Ovviamente deve essere magari un ragazzo che può fare al caso nostro, quindi vediamo un attimo se c'è qualche occasione e la sfruttiamo, però indicativamente può entrare un giocatore, ma se no oltre a Reinaudo non credo che ci muoveremo molto. Abbiamo, ripeto, il desiderio di vedere i nostri giocatori, qualcuno non l'abbiamo ancora mai visto, perché abbiamo preso Giraudo a dicembre dello scorso anno, ma non l'ha ancora mai potuto giocare, abbiamo preso ottobre, novembre, appena si è fermato il campionato, abbiamo Rocca che si è infortunato in preparazione, non l'abbiamo ancora visto, quindi Pecollo che quest'anno non l'abbiamo ancora visto, quindi tre acquisti li abbiamo già fatti, più portiere fa quattro, quindi qualcosetti di diverso ce l'abbiamo anche noi, poi se c'è qualcosa che può migliorarci ancora un pochettino, perché no? Grazie mille. Grazie mille a voi.